Eccoci, eccoci, eccoci cari amici. Innanzitutto desidero abbracciare nuovamente tutte le persone che ho incontrato ieri a Rimini, tantissime amiche, amici fantastici con cui siamo in contatto e con cui ci siamo abbracciati. Bene, noi ci guardiamo, ma ogni tanto è bello anche guardarci negli occhi veramente e abbracciarci. Quindi quando giro per l'Italia mi fa piacere che lo sappiate perché ci possiamo incontrare, conoscerci, abbracciarci, è la cosa più bella che ci possa essere al di là dei telefonini, computer, video. Allora, vi voglio dire, ecco, in questo contesto ho incontrato anche delle donne fantastiche. Ovviamente non dico i nomi perché ci sono delle notizie riservate. Una nostra amica che ho incontrato ieri a Rimini mi ha detto, ho ancora i brividi, dice avvocato, io dovevo fare delle chemioterapie, sono malata, dovevo fare delle chemioterapie e mi volevano per forza obbligatoriamente fare il tampone. Io mi sono rifiutata, io mi sono rifiutata perché non avevo nessun sintomo, mi sono rifiutata e seguendo le sue indicazioni gli ho detto che li denunciavo, ho insistito, hanno insistito a non volermele fare e poi sono capitolati. Io non ho fatto il tampone ma mi hanno fatto la chemio e ho avuto il coraggio di fare quello che ho fatto perché avevo avuto le sue indicazioni. Questo è un grande onore, ma queste donne sono le nostre eroine e stranamente sono quasi sempre donne. È difficile oggi come oggi trovare un uomo, uno come noi. Sono le donne che ci stanno dando un grandissimo insegnamento grazie nostra eroina. Vi voglio fare vedere un altro messaggio di un'altra eroina perché ognuno di noi che dà un esempio piccolo, io dico sempre una frase che può essere banale ma non è banale, siamo gocce, siamo gocce ma siamo tante, ci stiamo trasformando in un torrente, ci trasformeremo in un fiume. Perché? Perché siamo dalla parte della ragione, del diritto, del giusto. Perché il giusto alla fine vince, c'è sacrificio. Nella storia l'abbiamo imparato. Voi pensate chi avrebbe mai immaginato che il comunismo dell'est franasse, il muro di Berlino franasse da un giorno all'altro? Chi l'avrebbe mai immaginato? È successo. Quindi il giusto vince. Siamo tranquilli, continuiamo la nostra battaglia. Un'altra eroina, eccola. Abbiamo cancellato il nome ovviamente, ma vi leggo quello che è scritto ma vi faccio vedere anche il messaggio. Ecco un'altra eroina. Buongiorno Avvocato Polacco, ve lo leggo. Buongiorno Avvocato Polacco, volevo ringraziarvi di cuore per le indicazioni che mi sono tornate utili. Mi volevano far firmare un'autocertificazione con penale che se non avessi frequentato persone malate di covid. Io ho detto che non l'avrei firmata a un medico che voleva farli firmare l'autocertificazione. Il medico ha sempre mentito, mi ha detto che non mi avrebbe fatto la visita se io non avessi firmato. Io non ho firmato e ho detto che se voleva comunque poteva chiamare i carabinieri che avremmo chiarito tutto questo. Alla fine ha ceduto, si è rassegnato a farmi la visita, quindi opporsi si può e si deve fare. Grazie Avvocato, grazie di tutto. Sono piccole, piccole, piccole battaglie che ognuno di noi che è nel diritto. Perché non sono battaglie ideologiche, battaglie sui nostri pensieri, sono battaglie giuridiche. Io ho un diritto, diritto per esempio alla scuola, oggi sapete cosa è successo in tutta Italia, ma immaginate addirittura a che cosa siamo arrivati? Ve lo farò vedere dopo domani perché adesso mi sfugge. Dei presidi hanno emanato dei documenti con scritto, badate alla parola, decreto. Il dirigente decreta. Cioè siamo passati dai dpcm di un presidente del consiglio ai decreti dei dirigenti, dei presidi. Cioè chiunque scrive una legge in Italia. Siamo a una follia giuridica che non ha precedenti in tutta la nostra storia. Metà delle scuole italiane sono rimaste chiuse oggi. Diciamo, è inutile che il presidente del consiglio si fa vedere col bambino in mano dopo essersi messo d'accordo con l'istituto. Metà delle scuole italiane sono rimaste chiuse per totale disorganizzazione. Perché non c'erano neanche gli insegnanti, non i banchi che non sono arrivati quasi da nessuna parte. Poi ci dovranno spiegare questi banchi. Lasciamo perdere a palto di quelli strani, fantomatici. Ha una ditta che c'è un dipendente, l'avete saputo. Ma non entriamo, noi vogliamo solo che i nostri figli abbiano il diritto costituzionale alla scuola. Le tasse le paghiamo noi. Gli insegnanti presidi li paghiamo noi. I banchi li paghiamo noi. E adesso stanno chiudendo le scuole perché vogliono tenerci i nostri figli, farci dei nostri figli a casa. Ma non sarà così. Stiamo procedendo a migliaia di denunce, migliaia di denunce. Li seppelliremo dalle denunce. Migliaia di denunce per interruzione di pubblico ufficio. Per interruzione di pubblico ufficio è un reato grave. Non ci arrenderemo facilmente. Perché siamo dalla parte della ragione, dalla parte del diritto, dalla parte della Costituzione. Vi faccio vedere qualche titolo per renderci conto di quello che stiamo vivendo. Ecco qui, il paradosso dei professori fragili è vietato fare lezioni anche online. Siamo a momenti di follia. Ecco, e qui, vedete, qui iniziano a darci dei segnali. Test salivari di gruppo. Il piano per monitorare gli studenti. Test salivari di gruppo. Non facciamoci imbrogliare perché la nostra saliva contiene il nostro DNA. Ecco, vi ho detto tutto, ovviamente. Quindi test salivari di gruppo. Se li fanno loro e i loro parenti. Noi facciamo ciò che prevede la Costituzione italiana. Portiamo i nostri figli a scuola. Non ci facciamo nessun test perché non è obbligatorio perché i nostri figli stanno bene. Se non hanno la febbre, se non hanno i sintomi e stanno bene. Non ci facciamo nessun test. Scordatevelo. E se insistete vi quereliamo e poi vedremo cosa diranno i giudici in un tribunale. Lo dico pacatamente. Perché siamo dalla parte della giustizia. Siamo a tutelare noi stessi e la Costituzione italiana. Siamo a tutelare noi stessi e la Costituzione italiana. Ma guardate, guardate, vi faccio vedere come si stanno organizzando. C'è sempre del subdolo. E lo leggiamo. Guardiamo se internet giornali perché lanciano i messaggi. Ed ecco il messaggio di questa mattina. Guardate quanto è sottile, ma neanche troppo. Eccolo. Coronavirus in ministro Speranza. Dopo l'autunno e l'inverno. L'autunno e l'inverno. Vedremo la luce. Questi vogliono arrivare all'emergenza sanitaria. Lo sapevamo. Lo stanno ufficializzando fino all'anno prossimo. Fino all'anno prossimo. Ma a differenza dell'anno passato. Adesso abbiamo capito. Adesso sappiamo. Adesso siamo più preparati. Adesso se ci provano li seppelliremo sotto una valanga di denunce. Non le 2800. Riempiremo i tribunali. Come riempiremo i tribunali? Amici, iniziamo a prepararci. Ricordatevelo. Io lancio un appello. Lancio un appello a tutti gli avvocati d'Italia. Lancio un appello a tutti i commercialisti e i tributaristi d'Italia. Il 30 settembre si devono pagare le tasse. Se non ci sarà un rinvio, lancio questo appello. Facciamo un grandissimo sciopero fiscale. Ma non uno sciopero che poi ci metta sotto ricatto, ci pignorano la macchina, fermo amministrativo, i conti. No! Non paghiamo le tasse e ricorriamo al tribunale. Ricorriamo ai tribunali. tributari. Quindi non paghiamo le tasse e ricorriamo ai tribunali. Quindi faccio un appello a tutti gli avvocati, commercialisti, tributaristi d'Italia ad affiancarci in questa battaglia di civiltà. Noi non abbiamo lavorato da sei mesi. Non abbiamo lavorato da sei mesi. il codice civile prescrive lo stato di necessità e quindi siamo dalla parte della ragione. Non abbiamo lavorato. Non abbiamo incassato. Non abbiamo guadagnato. Non possiamo pagare le tasse. Dovremo organizzarci in un grandissimo sciopero fiscale. Democratico. Giuridico. giuridico. Non facciamo nulla di antigiuridico. Allora, oggi, in questo momento, ci state mandando migliaia di segnalazioni su quello che è successo a scuola. Vi informiamo che in queste ore stiamo predisponendo un volume addirittura di tutte norme, regole, di moduli, di tutto quello che possiamo ancora fare. Stiamo facendo uno sforzo enorme. Anche ad altri avvocati faccio un esempio dell'avvocato Morigia che da Milano sta facendo uno sforzo fantastico. Al magistrato Giorgiani, anche lui, che ci sta aiutando nello scrivere una serie enorme di norme, contronorme e ricorsi. Quindi, fra qualche ora, già da domani, riusciremo a inserirli sulle nostre pagine Facebook sui siti e quindi avrete un ulteriore strumento per combattere l'illecito, l'illegittimità, l'anticostituzionalità. Vi ricordo la nostra mail, vi invito sempre a non utilizzare quella dello studio, se potete utilizzare questa mail. Vi ricordo che stanno continuando a uscire pagine truffa con il mio nome, chiedono soldi, premi, codiglione. E' ovvio che sono truffe, ma mi raccomando, denunciate da Facebook perché ci stanno facendo un attacco pazzesco anche ai nostri siti. Ma, come vedete, ci vediamo qui ogni sera e quindi non ci fermano. Questa è la nostra mail, ve la ricordo. Se è possibile utilizzate questa per tutti quanti i messaggi che ci dovete inviare. Vi ricordo che fra qualche giorno avremo nuovi numeri telefoni, nuovi mail, nuove pagine dove vi informeremo tutti quanti i giorni di quello che riusciamo a fare sempre per noi. Noi siamo il popolo, noi siamo lo Stato, noi siamo la Costituzione italiana. Vi abbraccio, ci vediamo mercoledì. Per qualsiasi provenienza, mandateci le mail. Un abbraccio a tutti.